benvenuti a tutti in questo nuovissimo video ragazzi io sono miur oggi vi porto una combo a 3 in realtà una combo era 2 ma in realtà vi porto una tricombo vogliamo chiamarla così vi porto appunto il type 74g carro premium giapponese perché in realtà i giapponesi non li ho mai portati in questo canale quindi mi sembrava il momento giusto per portarli parliamo di un carro che in realtà mi sa che non è più disponibile sul marketplace sullo shop di warthunder l'avevamo dato in un certo periodo credo che sia di nuovo disponibile o non sarà molto presto è un carro che è discutibile su certi punti di vista nel senso che è un carro che non ha molta corazza anzi non ne ha quindi diciamo che per il suo br e probabilmente è anche un po diciamo svantaggiato da questo punto di vista ma nel complesso vi posso garantire che è un ottimo mezzo veramente possiamo fare affidamento su un cannone da 105 mm nella norma mettiamola così per il suo br con un indice di perforazione abbastanza buono 405 mm tempo di ricarica grazie al servente schillato 7,1 secondi e il livello di brandeggio per fortuna è abbastanza buono sia in depressione che nell'inclinazione verticale anche a livello di velocità di torretta quindi di orizzontale è anche ottimo l'unica pecca che sto riscontrando e appunto la mobilità mobilità molto molto discutibile sicuramente anche la potenza indicizzata per la sua massa più o meno si vada ad equilibrare nel complesso è un ottimo carro è un buon carro mettiamola così però il pezzo forte sarà appunto lo a h1s kisaratsu ottimo elicottero ad attacco al suolo con ben 8 missili aria terra da 800 mm di perforazione e il range di 3,75 km quindi veramente ottimo va veramente utilizzato al metro questo 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 range perché ragazzi ci sono antiaeree veramente molto molto letali è dotato anche di chaffo flare è un cannone da tre canne rotanti da 20 mm che fanno veramente male su qualsiasi cosa vola o abbia dei cingoli o delle ruote invece il re dell'aria in questo dr sarà il t2 ragazzi parliamo di un aereo da addestramento barra attacco al suolo mi chiamano così in realtà viene utilizzato anche come aereo acrobatico in giappone è un aereo molto leggero molto agile nei dogfight la maggior parte li vincerete tutti ragazzi ed è a un armamento abbastanza basico quindi bombe da 750 500 il mike t mouse o i zuni quindi diciamo che nel complesso è un ottimo aereo soprattutto indicizzato per il supporto a terra ragazzi 290 mm bastano e avanzano soprattutto perché ve ne portate 76 quindi riuscite anche sbagliando a fare per forza una kill il cannone autorotante da 20 mm veramente devastante quindi ve lo consiglio fortemente come aereo se avete intenzione di sviluppare ulteriormente diciamo la l'aeronautica giapponese ragazzi questa è la tripletta che portiamo oggi iscrivetevi al canale soprattutto lasciate un commento se avete intenzione di perché voglio che porti diciamo se vogliete che porto una una combo particolare un mezzo specifico vi avviso che il prossimo video sarà ancora più epico mezzo strastra che vogliono tutti che non ha nessuno quindi già lasci vi lascio a voi l'immaginazione e niente iscrivetevi al canale ragazzi e si parte veloce con questo gameplay vamo dai 5 4 3 dai 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 3 2 1 ma che cazzo dici grazie a tutti dai 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 ricarica 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 ok occhio a quelli che ti vogliono venire da dietro suona male come frase ma è così aspetta ma qua c'è uno raga veloci 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 va un po' in ritardo comunque raga cingolo ok via 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 togliersi dalle balle letteralmente via vado raga ma chi è che mi sta puntando col laser mannaccia la miseria ma da dove mi ha spreso questo? ah sempre lui ok ho sentito un elicottero eccolo dai aggancialo 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 ok via sì vabbè ormai era proprio tardi per agganciarlo e spararlo anche perché era andato a fuoco grazie che lo tracciava guarda come si chiude in un fazzoletto d'aria raga veramente assurdo questo aereo grazie a tutti 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 no 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 ok sta arrivando qualcuno spegniamo il motore pronti 3 2 1 artigliere ok non dovrebbe sparare 3 2 1 ok via non so dove sia minimamente guarda se riusciamo in qualche modo a beccarlo mi metto a ridere occhio buttiamo un po' di artiglia qui vediamo dai un sasso c'era ma tu vuoi vedere che quello sta là sopra e nessuno lo sta facendo fuori e si colpo ma non gli facciamo niente mi sa che è morto ora ragazzi conquistare charlie non è il massimo è quello di poggia da ora perché sicuro vi troverete ci troveremo qualcuno davanti ok c'è qualcuno qui spegni il motore a destra o a sinistra non lo capisco a destra o a sinistra ok lo vedo ok c'è uno sgavati ok mi dispiace non l'ho salvato in tempo attiva veloce il curso dai ricarica 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 cos'è che l'ho fatto pilota eh lui ci fa ora ci fa sicuro ecco ciao guarda qua Mario via 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 ok ok è dietro di me non è buono ok vai 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 per guardarmi a ore 6 ora non lo vedo più ok sta là dai ok vai 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 Fonest corri si quanti razzi abbiamo ancora? 32 interessante beh dai appena vedo qualcosa a terra è sicuro lo smitraglio ok lì no è morto ok li vedo e aggiustati è andato poverino no non è morto eccolo lì via lupa 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 togli già la manetta perché non ci serve tutta questa velocità ebbè la black panzer fa male ragazzi fa veramente male però abbiamo la possibilità ora di poter andare con l'elicottero guai per loro solo guai dai dai muoversi muoversi cioè stanno ribaltando la situazione a terra in una maniera assurda bisogna dare subito una mano grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti dai ok dai 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 forza forza dai per favore colpo ma che c'è non c'è le corazze reattive e allora fortunato bastardo c'è qualcuno che ci vuole un po' male no no l'ho visto proprio che mi stava arrivando bene ragazzi spero che il video vi sia piaciuto ovviamente questa combo era diciamo leggermente sbilanciata con il br però tutto sommato il carro è abbastanza buono sicuramente nel suo br attuale quindi 9.0 sicuramente se la cava molto molto bene come ho già detto ovviamente non eccella in niente quindi va utilizzato veramente in maniera molto cauta soprattutto perché non avete nessuna tipologia di protezione quindi va utilizzato in maniera molto molto cauta ovviamente sicuramente potrete far molto meglio di come faccio io e ovviamente poi la combo tra aereo e elicottero sicuramente veramente letale e niente ragazzi lasciate qui sotto like e un commento se avete in mente un carro particolare o una combo no problem fate richiesta qui sotto e sicuramente potrò portarveli ragazzi ci vediamo presto molto presto in un prossimo video ciao ragazzi ciao 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 Grazie.